Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. In primo piano le polemiche sulla manovra varata dal Consiglio dei Ministri martedì sera. Durissime le critiche da parte delle opposizioni alle misure messe a punto dal Governo, in particolare quelle sulla sanità dal documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, risulterebbero meno fondi di quelli annunciati dall'esecutivo e c'è anche la delusione dei medici. L'altro fronte di scontro riguarda le banche e le assicurazioni. Vediamo. Ho detto che oltre ai pescatori e agli operai che i sacrifici già li fanno, questa manovra avrebbe fatto fare sacrifici a tutti e quindi anche alle banche a cui mi rivolgevo. Sono le parole con cui il Ministro dell'Economia, Ilaghissa Giorgetti, presenta la manovra di 30 miliardi, di cui 9 da nuovo debito e 21 da maggiori entrate e minori spese. Intanto si apprende a proposito del contributo delle banche, previsto pari a 3,5 miliardi, che si tratta della sospensione biennale di alcune deduzioni fiscali e di quello delle assicurazioni del pagamento annuale, non a scadenza dell'imposta di bollo, su alcune tipologie di polizza. Non è chiaro per quanto riguarda gli istituti di credito cosa succederà con tali deduzioni dal 2027 in poi, se cioè sarà per loro possibile recuperare i soldi versati anticipatamente e in che forma. La Premier parla di manovra di buonsenso. Sul contributo delle banche, Tajani dice, non è una tassa sugli extraprofitti, roba da Unione Sovietica. Salvini invece spiega, sono orgoglioso che siano le banche che hanno guadagnato 40 miliardi a restituire ai cittadini. Molto critiche su sanità e banche le opposizioni che parlano di imbroglio. Nessuna nuova tassa, ma un anticipo di tasse già dovute dalle banche e dalle assicurazioni, che saranno loro puntualmente restituite. Per Schlein il governo tratta da stupidi gli italiani. Per Conte la tassa sugli extraprofitti non esiste. Calenda aggiunge una cavolata e Fratoianni è una truffa. Ieri sera c'è stato un vertice tra Meloni, Tajani e Salvini e il commissario disegnato fitto proprio alla vigilia del summit europeo che si apre oggi a Bruxelles, dedicato in particolare alle due guerre Medio Oriente e Ucraina. Sarà il Consiglio europeo che si sta per aprire a Bruxelles, dove Zelensky incontrerà anche il segretario generale della Nato Rutte a far da cornice alla presentazione del piano per la vittoria del presidente ucraino, illustrato prima ai vari leader nel corso del suo turno nel continente e poi alla rada. L'obiettivo è quello di rafforzare la posizione di Kiev, quanto basta per porre fine al conflitto senza cedere territorio. Cinque punti chiave più tre allegati segreti, definiti subito dal Cremlino senza prospettive. E a Bruxelles, il giorno prima del vertice, c'è stato un altro importante summit, quello tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo, l'alleanza regionale che riunisce Bahrain, Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar. Un incontro preparato a lungo e che ovviamente ha avuto al centro, oltre alla guerra tra Russia e Ucraina, rispetto alla quale la dichiarazione finale congiunta contiene il richiamo ad una pace giusta e duratura in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché quello alla risoluzione dell'Assemblea generale che condanna l'invasione russa, anche il conflitto medio orientale. Presente l'Emiro Altani per il Qatar, uno dei mediatori nei tentativi di arrivare ad un cessate il fuoco a Gaza, nell'ottica del quale però ha confermato lo stesso Altani non ci sono contatti da 3-4 settimane. Comune la condanna a tutti gli attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite. Esprimiamo preoccupazioni particolarmente gravi rispetto al recente attacco contro l'Unifil, che si legge nel testo delle conclusioni. C'è estrema preoccupazione per la pericolosa escalation in Libano e affermiamo il sostegno al popolo libanese chiedendo un cessate il fuoco immediato. E domani Giorgia Meroni sarà proprio in Libano, dove incontrerà il contingente Unifil, che è stato oggetto di un altro pesante attacco da parte di Israele. Ci sono le critiche da parte di Netanyahu, proprio da Casquiblu, per la gestione negli anni della zona loro affidata. Ancora fuoco deliberato dell'esercito israeliano su di una torretta di controllo dell'Unifil, centrate alcune telecamere. I Casquiblu non sono un obiettivo, dice Israele, ma il premier Netanyahu in un'intervista alle Figaro li accusa di non aver fatto praticamente nulla in quasi 20 anni per contenere Esbolla, disattendendo completamente alla loro missione. Un problema affrontato in queste ore dall'ONU, mentre il ministro della difesa Guido Crosetto, insieme al collega francese Sebastien Lecornou, ha convocato in videoconferenza i ministri dei 16 paesi europei che partecipano ad Unifil. Occorre rivedere le regole di ingaggio della missione, la posizione emersa, insieme alla necessità di esercitare la massima pressione politica e diplomatica su Israele, affinché non si verifichino ulteriori incidenti. Inoltre Esbolla non può utilizzare il personale Unifil come scudo nel contesto del conflitto. Netanyahu intanto, secondo la stampa americana, avrebbe approvato una serie di obiettivi. Per la risposta all'Iran si tratta di siti militari, rimangono fuori su pressione proprio di Washington, i siti nucleari e petroliferi. Lo Stato ebraico continua anche a bombardare Gaza e Libano, nel quale ci sarebbero 16 morti e 52 feriti nei pressi della cittadina di Nabatia. Nel mirino, di nuovo anche la Siria, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Sanaa, sarebbe stata colpita la cittadina costiera di Lattacchia. In risposta da Libano, Esbolla ha lanciato un razzo colpendo un edificio a Kiriachmona, nel nord di Israele. Secondo la polizia, non ci sono feriti. In Italia è stata approvata la legge che vieta la maternità surrogata all'estero, già vietata in Italia da diversi anni, in uno scontro durissimo che si è consumato in aula tra maggioranza e opposizione. Vediamo com'è andata. Reato universale. Con il sì definitivo di ieri del Senato, 84 sì, 58 no e nessuno astenuto, la gestazione per altri, altrimenti detta maternità surrogata o utero in affitto, già vietata da 20 anni nel nostro paese, diventa perseguibile anche se compiuta all'estero, con pene fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta Ha provato una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini, la vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio. Chi si trincera dietro la retorica dei diritti per giustificare la pratica dell'utero in affitto dovrebbe chiedersi perché invece ci sia una rete mondiale del femminismo che sostiene l'iniziativa dell'Italia e considera il nostro paese un esempio da seguire. Con questa legge i diritti non sono stati negati, ma al contrario sono stati riaffermati e resi finalmente effettivi, vice la Ministra per la Famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella. Ma nell'aula di Palazzo Madama l'opposizione tutta ha dato battaglia. Contro una legge bollata come arma di distrazione di massa, inefficace, contro le famiglie Arcobaleno, incostituzionale. Il capogruppo di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, ironizza. La procreazione per altri è reato universale, se lo fanno gli italiani, se lo fa Elon Musk, gli si aprono le porte di Palazzo Chigi. Quattro migranti su sedici che ieri sono sbarcati nel porto di Schenghini in Albania sono già di ritorno in Italia. Due di loro si sono infatti dichiarati minorenni, mentre altri due torneranno nel nostro paese per motivi di salute. Quattro si sono imbarcati quindi nuovamente sulla nave Libra della Marina Militare, che è diretta in Italia. E non mancano naturalmente le polemiche. Alcuni parlamentari dell'opposizione visiteranno oggi nuovi centri per i migranti aperti appunto in Italia dall'Albania. E andiamo adesso all'inchiesta sulla Sogei che ha portato all'arresto del direttore generale di un imprenditore. Le prime conferme arrivano proprio, sembra, dal direttore generale. Gli inquirenti però vogliono anche fare chiarezza sui rapporti con le società americane di Musk. Ci sono le prime ammissioni da parte di Paolino Iorio, direttore generale area business di Sogei, arrestato con in tasca una mazzetta di 15.000 euro e le prime reazioni di società, enti pubblici e soggetti coinvolti nella maxinchiesa della Procura di Roma su appalti e mazzette nel settore dei sistemi informatici, della pubblica amministrazione. Iorio, sentito dai magistrati, ha ammesso di aver ricevuto circa 100.000 euro in nero dall'imprenditore Massimo Rossi, con cui lunedì sera è stato arrestato con l'accusa di concorso in corruzione e turbativa d'asta. Due volte al mese i due uomini si incontravano in alcuni di questi incontri. Avveniva il passaggio di denaro. Il Consiglio di amministrazione di Sogei ha disposto la revoca immediata delle procure di tutte le cariche e gli incarichi che ricopriva Iorio. Stessa sorte per Rossi, che davanti ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere, che è stato sollevato dagli incarichi all'interno della Digital Value, società quotata in borsa e specializzata in tecnologie e sistemi di informazione, che da Sogei aveva ricevuto una commessa di 100 milioni di euro per la gestione dei sistemi informatici di alcune strutture pubbliche. Sequestrati anche computer e telefonini di Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk, anch'esso coinvolto nell'inchiesta e indagato per corruzione. A questo proposito, il PD ha chiesto al governo di riferire in Parlamento i termini dell'accordo con la società del miliardario americano, su cui lavorava anche Stroppa. Scuole chiuse oggi a Genova. La Spezia e Savona per l'allerta a maltempo che da ieri sta colpendo la Liguria, ma che nelle prossime ore rischia di allargarsi anche all'Appennino-Tosco-Emiliano e al Basso-Piemonte. Il bilancio di ieri ha visto fiumi esondati, strade interrotte. I temporali su tutta Genova hanno causato disagi anche in aeroporto. Diversi voli sono stati deviati su Pisa e Torino ed è stata sospesa per 90 minuti la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ventimiglia. E adesso la pagina dello sport con il tennis. Anche oggi c'è Yenik Sinner per il tennis azzurro, una prestigiosa vittoria in Arabia Saudita e importanti novità su fronte doping. Vediamo. Il 6063 con cui Sinner si è sbarazzato dello russo Medvedev nel primo impegno a Riyadh è stata un'ottima notizia, ma il numero uno della classifica mondiale è in prima pagina, soprattutto per quanto si legge nelle motivazioni di un caso doping molto simile a quello che ha coinvolto Yenik. Il TAS, Tribunale d'Appello dello Sport, si è espresso riducendo da 4 anni a 9 mesi la squalifica ai danni della tennista rumena Simona Alep, ex numero uno al mondo, per incauto utilizzo di un integratore contenente sostanze proibite. Trattandosi di una giocatrice professionista da anni ai vertici dello sport, è inconcepibile che si sia affidata a persone prive di competenze mediche come allenatori oppure fisioterapisti. Un'importante differenza rispetto al caso Sinner è quella tra l'integratore di sali minerali, una bevanda assunto dalla Alep, e la pomata per massaggio utilizzata da Giacomo Naldi. Potrebbe essere infatti addossata gran parte della responsabilità nella decisione che il TAS potrebbe mettere nei prossimi mesi, proprio a Naldi, che manipolò il fisico di Sinner senza guanti di protezione, nonostante la dicitura doping fosse riportata sulle confezioni della pomata della discordia. Ma una cosa è certa, anche questa volta il nostro campione si farà scivolare addosso la preoccupazione per gli sviluppi del suo caso. Preferirà infatti concentrarsi esclusivamente sulla sfida con Djokovic di questa notte, quattro giorni dopo il trionfo nella finale di Shanghai. Ed è lutto nel mondo della musica, Liam Paynex, chitarrista e cantante dei One Direction, è morto a 31 anni dopo essere caduto da un balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Non è chiaro se si tratti di un suicidio o di un incidente. Prima di chiudere, un'ultima ora appena battuta dalle agenzie, un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato in strada alla periferia di Milano. L'allarme è scattato poco dopo, le 5 sul posto è intervenuta la polizia. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con il telegiornale alle 13.30. Ora torna Paolo Suttocorona con le previsioni del tempo e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Edgardo Gulotta e Coffee Break condotto da Andrea Pancani. Grazie per averci seguito, buona giornata.